Ciao da Apsim, conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre Juventus Sassuolo di domani mercoledì 27 ottobre alle 18.30 all'Allianz Stadium in cui Allegri per la prima volta forse in questa stagione ha mostrato un pochino di nervosismo e devo dire che questo nervosismo, questa suscettibilità alle critiche che gli sono piovuti addosso dopo Inter-Juventus un po' può essere un vantaggio, può far bene perché può portare forse a fare delle valutazioni un po' più serie un po' più ponderate sulla situazione attuale della Juve e su quello che si deve fare e magari Allegri smetterà di essere così convinto, così sicuro delle sue mosse e delle sue scelte perché essere troppo sicuri di quello che si sta facendo appunto non è un bene e quindi mettersi in discussione però in maniera serena e non in maniera provocatoria può portare dei vantaggi e invece proprio in maniera provocatoria e poco serena si è posto Allegri rispetto alle critiche che ha percepito che ha subito in questi giorni e che ha meritato perché contro l'Inter, che chi ne dica lo stesso Allegri dicendo che il calcio poi è opinabile, la Juventus non ha fatto una buona prestazione e comunque per i puristi del risultato non ha neppure vinto quindi margine di critica, di riflessione ci dovrebbe essere e perché dico che non è sereno nell'accettare le critiche Allegri? Sia perché appunto mi è sembrato abbastanza nervoso per la prima volta quest'anno e da questo punto di vista abbiamo ritrovato un Allegri che nei cinque anni avevamo visto tante volte che in questo nuovo inizio era sembrato svanito perché sembrava essere sempre molto e fin troppo sereno ma anche perché è stato provocatorio pure nei confronti dei giornalisti io se fossi stato in loro mi sarei alzato e me ne sarei andato ad un certo punto ma forse sono io che sono sbagliato, sono io che esagero però nel momento in cui Allegri dice e lì addirittura è sembrato anche un po' arrossire di nervosismo tanto che per il calore addosso tirava su le maniche ma ecco possono essere anche dei dettagli irrilevanti nel momento in cui dice ecco io ho letto le vostre critiche e quindi ho visto che cosa avete detto su Chiese e su Dybala allora ve lo dico subito, ve lo dico adesso contro il sassuolo Chiese e Dybala partono titolari perché io vi leggo e faccio quello che dite questa qui è una provocazione bella e buona che è nel personaggio Allegri è nel personaggio comeppure alla fine gli viene chiesto possono giocare Chiesa, Dybala e Morata insieme e se sì si deve rinunciare a quadrado e lui fa la scenetta di andare nel panico di non riuscire a capire quattro nomi di suoi giocatori tutti messi insieme e quindi fa veramente la scenetta perché quella non può che essere una scenetta finale vi invito a guardarla se non avete visto la conferenza stampa in versione integrale su JTV per entrare nel personaggio per stare nel personaggio di quello che le cose complicate le maltollera non le sopporta ma si tratta di una domanda anche molto semplice poi alla fine ha anche risposto ha detto sì ma non è detto che bisogna rinunciare a quadrado grazie metti quadrado terzino metti Chiesa a centrocampo e metti Dybala e Morata in attacco ma la domanda non era quella si parlava di tridente Chiesa, Dybala, Morata, tutti e tre in campo e se deve rinunciare a quadrado perché fa il centrocampo a tre quindi era una domanda diversa e quando appunto dice dicevo ve li metto in campo perché così siete contenti tra virgolette sta nel personaggio però è offensivo però è provocatorio perché sembra quasi dire io le vostre critiche le leggo e allora vi getto vi getto un guanto di sfida adesso li metto titolari e vediamo come va se poi va male la colpa di chi è? ma questa domanda dovremmo farla ad Allegri non è Allegri che può rivolgerla a noi perché per lui andar bene o andar male dovrebbe essere irrilevante rispetto alle chiacchiere che si fanno che anche per lui sono chiacchiere da bar e l'ha detto e ha svilito come faceva un tempo come faceva i bei tempi andati tutto il dibattito che c'è stato perché quando lui dice il calcio è opinabile dopo però non prima e questa qui perdonatemi ma la devo ancora capire perché il calcio sia opinabile solo dopo la partita e non anche prima perché non si possa discutere anche prima dice io posso avere la mia opinione poi vado dai miei amici al bar al Livorno e mi dicono chi una cosa e chi un'altra cioè stiamo parlando di dibattito da bar capite? questo è il livello a cui Allegri vuole porre le nostre riflessioni che sono riflessioni serene da appassionati da tifosi in alcuni casi anche da giornalisti e da chi ci lavora mi ci metto anch'io anch'io ci lavoro ma sono anche un tifoso sono anche un appassionato prima di tutto direi soprattutto e stiamo semplicemente cercando di capire se questo è il meglio che possiamo vedere da questa Juventus oppure no penso che ci sia dato come atteggiamento legittimo senza che ci venga detto che sono chiacchiere da bar o che lo si lasci intendere poi magari ripeto ho capito male io perché è opinabile anche quello che dice Allegri però quando dice il calcio è opinabile come i miei amici al bar non è esattamente una dimostrazione di rispetto allo stesso modo nei confronti dei giornalisti che poi sono i primi a creare questo clima ci fosse stata una domanda sul Sassuolo solo all'inizio come al solito JTV che gara si aspetta con il Sassuolo e Allegri ha detto che il Sassuolo è una squadra che gioca bene è una squadra che gioca bene in che senso? nel senso che è una squadra che gioca tecnicamente bene ecco allora chiederei ad Allegri ma nessuno gliel'ha fatta questa domanda la domanda sarebbe dovuta scattare come una molla ma allora se tu dici che il Sassuolo gioca bene perché passa bene la palla perché tiene bene la palla e quindi gioca in questo senso gioca bene com'è che dici che la Juve con l'Inter che non ha tenuto bene la palla ma anche in altre partite precedenti aveva fatto una buona partita aveva giocato bene qual è il parametro oggettivo di riferimento perché il calcio è opinabile sì ma non è questo il punto il punto è tu Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus che calcio vuoi proporre che Juve vuoi mettere in campo e lì ci devi dare dei parametri oggettivi e invece quando poi arriva a spiegare il fatto che a lui sia piaciuta di più la partita con l'Inter che quella con lo Zenit sembra quasi aver voluto rispondere ai miei video ma non credo che li abbia guardati lui dice perché dipende dall'avversario dipende dall'avversario quindi l'insoddisfazione di Allegri contro lo Zenit era perché visto l'avversario si sarebbe dovuto fare una partita ancora migliore la soddisfazione contro l'Inter perché visto l'avversario non si poteva fare meglio stesso discorso col Chelsea allora intanto io dico faccio notare che allora è inutile che andiamo avanti perché andando avanti noi non troveremo solo squadre come l'Inter ma troveremo anche altre squadre che in parte abbiamo già affrontato come il Milan o come il Napoli ma soprattutto in Europa se andiamo avanti in Champions League e troviamo il Manchester City il Paris Saint Germain il Bayern Monaco quello che volete che cosa dobbiamo fare che aspettativa c'è è una partita da giocare o è una partita da vincere perché Allegri ha detto anche questo ci sono nel calcio partite da giocare e partite da vincere quindi innanzitutto vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta lo prendi lo accartocci lo butti nel cestino e te lo dimentichi perché se ci sono partite non da vincere vincere non è importante ma l'unica cosa che conta viene meno ci sono partite che vanno giocate quella con l'Inter non era da vincere era da giocare che cosa vuol dire esattamente e perché quella col Sassuolo è una partita da vincere ma non da giocare che si vince senza giocare o che quando si gioca non si vince davvero faccio fatica io a capire e di conseguenza faccio fatica io a spiegarvi ma siamo siamo veramente fuori e se vai a giocare una finale di Champions contro il Manchester City quella lì è una partita da giocare o da vincere perché l'avversario è superiore come l'Inter che Allegri ancora pone e ha anche ragione forse sul trono della squadra favorita per lo Scudetto però è una finale di Champions quindi che fai? la devi giocare o la devi vincere? che approccio vogliamo vedere in campo? che Juve ci deve essere? perché nell'infrasettimanale contro il Sassuolo siccome è mercoledì e si gioca alle 18.30 c'è bisogno di stimoli da cercare chissà dove in quali angoli reconditi a differenza di una partita con l'Inter che si prepara da sola e di conseguenza siccome c'è bisogno di stimoli reconditi gioca per in cioè qual è il senso logico di questa cosa? e recupera che non era non era perso non era infortunato recupera perché signor Chiellini ha fatto la sua partita settimanale con l'Inter e si siede in panchina e poi tornerà a giocare quando avrà ancora voglia perché purtroppo le gerarchie sono questo non so se riposerà Bonucci secondo me Allegri ha in testa di far giocare Rugani e allora stesso discorso a me va benissimo far giocare Perin far giocare Rugani ma se c'è bisogno di nuovi stimoli di stimoli particolari allora cosa stiamo andando a fare? stiamo andando a sfracellarci perché dobbiamo dimostrare ai giornalisti che Di Bala e Chiesa non dovevano partire titolari? beh non credo infatti Allegri un minimo di mea culpa l'ha fatto quando ha detto sbagliando ho messo Kluseschi su Brozovic però non va bene così perché tu sbagliando lo puoi dire due giorni dopo puoi fare mea culpa però è ipocrita questo atteggiamento perché tu hai avuto tutta la partita per cambiare questo stato di cose e invece non solo non hai cambiato nulla nell'intervallo a parte la necessità di mettere Bentancur per Bernardeschi ma neanche non hai cambiato nulla nel primo tempo ma neanche nell'intervallo hai cambiato nulla e Kluseschi si è fatto altri 20 minuti altro quarto d'ora su Brozovic senza senza eluderne le giocate e meno male che ve l'avevo detto perché subito dopo la partita Allegri ha detto che Brozovic non ha giocato grazie a Kluseschi su di lui e io vi ho detto guardate che non mi pare proprio Brozovic è stato uno dei più è uno di quelli che ha giocato di più e meglio proprio come quantità e qualità di palloni per l'Inter e infatti due giorni dopo Allegri dice ho sbagliato perché perché se ne sarà reso conto anche lui magari riguardando analizzando la partita se l'ha fatto che non ha funzionato Kluseschi su Brozovic al di là del fatto ma perché dobbiamo partire con il dilemma fisico di mettere Kluseschi su Brozovic perché se no andiamo in difficoltà invece di creare noi delle difficoltà agli avversari perché non partire dal presupposto che possiamo essere noi a costringere l'avversario di turno a porre un uomo in marcatura in copertura fissa su di noi ma qui stiamo andando oltre qui stiamo andando a parlare di calcio e di prestazioni che non hanno ragion d'essere perché sono chiacchiere da bar perché è calcio che è opinabile dopo però non prima e quindi è inutile che ci facciamo domande particolari sulla partita contro il Sassuolo ripeto nessuno dei giornalisti che creano questo ambiente ha chiesto per esempio come eludere il gioco offensivo del Sassuolo oppure Allegri ha detto speriamo di fare due gol e di vincere con due gol di scarto perché due gol non li facciamo da un sacco di tempo ma come li vuoi fare due gol infatti gli è stato chiesto ma l'attacco è un problema no l'attacco non è un problema ma come l'attacco non è un problema abbiamo fatto 13 gol in 9 partite di serie A e l'attacco non è un problema abbiamo un attacco che è astento vicino al numero di gol in media segnati nelle principali competizioni europee cioè siamo astento vicino alla media se non sotto e l'attacco non è un problema non hai Cristiano Ronaldo che segna 30 gol a campionato ma arriveranno i gol quelli di Dybala quelli degli altri giocatori quelli dei centrocampisti sì Rabiot mister 10 gol a campionato avete visto quanti gol ha fatto Rabiot o Meccani che già se ne è mangiati 6 o 7 in varie partite e Allegri dice che ha fatto anche una buona partita ribadendo il concetto si è giocato bene contro l'Inter e non bene con lo Zenit perché dipende dall'avversario e ripeto l'applicazione pratica di questo principio dipende dall'avversario vuol dire che la Juve subalterna che la Juve subalterna e che se l'avversario è superiore bisogna non vincere ma giocare se l'avversario è inferiore bisogna vincere se domani non si vince col sassuolo di chi sarà la colpa di Dybala e chiesa titolari di Rugani se gioca di De Ligt di Perin o dei giornalisti e degli opinionisti e dei creators che hanno osato muovere delle critiche rispetto ad una formazione non solo palesemente sbagliata ma anche a conti fatti inefficace se è vinto no e allora di cosa stiamo parlando cioè se dobbiamo legarci al risultato e la prestazione sono chiacchiere da barra ed è calcio opinabile dopo e non prima restiamo legati al risultato se pareggiato la formazione era sbagliata punto non ci sarebbe molto da dire nelle logiche di Massimiliano Allegri quindi giocano Dybala Chiesa Perin De Ligt altri non li dice perché poi giustamente i giornalisti che si presentano in conferenza stampa mister chi gioca questo è l'atteggiamento dei giornalisti purtroppo devo dire ormai è ormai una cosa imbarazzante ormai è una cosa imbarazzante di conferenza stampa in conferenza stampa vogliono solo sapere chi gioca me ne rendo conto me ne rendo conto che ce ne sono alcuni che vorrebbero fare altre domande andare più ad approfondimento e ci provano però non riescono appunto a trovare una risposta come per esempio l'ultima domanda dicevo che è stata fatta meritava una risposta un po' più attenta e rispettosa però poi alla fine si riduce solo a questo chi gioca chi non gioca e l'altro ha detto Locatelli e Artur possono giocare anche insieme con Locatelli davanti alla difesa e Artur mezzala destra come faceva nel Barcellona quindi non gli è ancora entrato in testa che Locatelli non è un regista che deve fare la mezzala e che l'unico regista che abbiamo è proprio Artur anzi ha detto Artur mezzala destra con o Locatelli o Ramsey davanti alla difesa ma quale Ramsey ma quale Ramsey che non entra mai che non gioca mai che non è mai titolare anche quando sta benissimo gioca McKennie titolare fa 75 minuti e poi Ramsey a un certo punto diventa mediano davanti alla difesa di cosa stiamo parlando cioè non capisco poi sul migliorare ha detto stiamo lavorando sulla fase offensiva sulla fase difensiva come si fa in tutti i campionati ma non c'è nulla di straordinario dal punto di vista dell'attacco quindi come carenze come abbiamo detto secondo lui l'attacco non ha un problema Caio Giorgio sta andando molto bene gioca molto bene è un giocatore non è un ragazzo si è corretto su questo quindi non è più considerato un giovane ed è giusto così che sta facendo molto bene bene speriamo che possa dimostrarlo sul campo che abbia l'opportunità di dimostrarlo seriamente questi sono i contenuti della conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre Juventus Sassuolo ovviamente tutte le mie critiche che posso aver mosso in questo video prescindono dal fatto che domani si deve vincere come ha detto Allegri e come tutti noi speriamo grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti dite la vostra con rispetto delle opinioni degli altri mettete like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti tra cui tutti quelli legati a Juventus Sassuolo abbonatevi per le chat riservate su Discord e tanti altri vantaggi ci vediamo molto presto e sempre forza Juve